ah ma ma faronica 5 euro aspetta aspetta ma stanno buone sti cosi di incontro salve scusi che è la stessa misura delle nostre vite se li può provare lei a vedere come stanno eh no per vedere la vestibilità si in effetti si la vestibilità perché 5 euro e 10 euro va bene però io prego ma va bene signora io qua sono veramente sterefatto vedo che avete anche bisous vendete anche bisous vabbè penso prezzi pochissimi quasi regalati tipo questa questa qua è tipo 10 euro 10 euro ma qua ci sei di pazzi si si siamo usciti pazzi noi spendiamo tutto veramente qua veramente le meraviglie qua le meraviglie di Catania si 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 guarda che bello troppo carino questo troppo carino vabbè aspettiamo la la signorina che gentilmente si prova i vestiti per no amore come finio signorina si è indormentata nel camerino c'è ve ne rendete conto ragazzi sti pantaloni abbiamo detto vieni 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 15 ragazzi stop guardate che bella questa ragazza che se la prende lei signora ma che è di casa c'è una collanina c'è una collanina ci la mettiamo magari si subito vabbè vediamo i colpetti sono questi qui aspetta che li faccio vedere c'è anche questo colore guardate ragazzi guardate ora c'è anche il bijou ma guarda che meraviglia ragazzi tutto questo lo trovate all'angolo delle meraviglie fuori tutto via plebiscito numero 128 Catania Catania va bene a tra poco perché io ero conto anche se svuota tutto deve pagare queste cose se devo pagare se svuota vi ho fatto spazio a tra poco signora un'altra principata a tra poco signora ciao 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 Grazie a tutti.